Sembra una storia di altri tempi, sembra di tornare a secoli e secoli orsono, quando si andava nelle case messaggeri per istruire, per portare un aiuto, così come fece a suo tempo nel 1400 San Giovanni Calibida, che poi è stato il fondatore dell'Associazione dell'Ordine Francescano dei Fatebene Fratelli. Ma nel 2019-2020 parlare di un ingegnere 36enne, appassionato di trekking, che parte da Genova per girare tutta l'Italia e sensibilizzare sulla sclerosi multipla, è qualcosa di molto particolare. Lui si chiama Marco Togni. Il progetto che porta avanti Marco Togni si chiama Mamme e SM, che è la sigla di Sclerosi Multipla, 6.000 km dal 17 marzo 2019 per rientrare a Genova il prossimo 30 novembre. Noi lo incontriamo qui, in questa bellissima piazza della capitale della Quintana. Siamo in Umbria, a Foligno, il centro del mondo, o se preferite, lo centro dell'umunno. Io guardo con una certa invidia questi piedi e queste gambe. Sono di Marco Togni, come vedete un fisico atletico, è questo uomo, 37 anni, ingegnere, ligure, non genovese ma ligure. Ci ha detto, anche se è nato nella Bergamasca, che dal 17 marzo, era una domenica, il giorno di San Patrizio, e poi ci spiegherà lui perché l'ha scelto proprio quel giorno, è partito da Genova, dai ruderi del Ponte Morandi, per viaggiare in tutta Italia, allo scopo di divulgare nozioni sulla sclerosi multipla su un progetto che si chiama Mamme e Sclerosi Multipla. Allora, innanzitutto Marco Togni, grazie, perché lei in qualche modo ci riporta un po' indietro, come abbiamo detto, perché è colui che di casa in casa va sensibilizzando e divulgando questa materia che spesso spaventa. Spaventa anche in maniera atroce e psicologicamente abbatte. Perché ha scelto di fare come facevano gli amanuenzi una volta quando c'era l'analfabetismo galoppante a fine ottocento, di andare di casa in casa, di posta in posta? Io sognavo di girare l'Italia a piedi, è un sogno da circa dieci anni, e di farlo per portare un messaggio importante. Quando lo scorso anno mi sono reso conto che questo sarebbe stato l'anno buono per fare questo giro di taglia a piedi, ho scelto una causa importante. La causa importante è stata quella della sclerosi multipla, di fare una campagna di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla per due motivi sostanzialmente. Il primo motivo è perché io faccio una cosa di movimento e chi ha sclerosi multipla comunque può tendere col tempo ad avere delle problematiche di movimento, quindi mi sembra un po' di poter camminare per chi fa più fatica di me a farlo. E il secondo motivo è quello dell'età. Io ho 37 anni e la sclerosi multipla viene diagnosticata principalmente tra i 20-40 anni, quindi mi sembra di fare qualcosa per i miei coetanei, quindi ho sposato questa causa molto volentieri, da lì sono partito il 17 marzo per questo lungo giro. Il 17 marzo è il giorno della festa del tricolore, che è stato praticamente coniato a Reggio Emilia, quindi lei in qualche modo con questo vessillo italico ha voluto mettere un piede nel passato e uno nel futuro. Va detto una cosa molto importante, che Marco Togni non è assolutamente affetto da malattia, ma è un volontario dell'associazione italiana Sclerosi Multipla, la quale sede nazionale è proprio lì a Genova. Esatto, infatti sono partito da Genova alla fine per tre motivi. Da un lato perché sono cresciuto in Liguria, quindi era un omaggio al capoluogo della regione nella quale sono cresciuto. In secondo luogo perché la sede nazionale di Aism è a Genova. E in terzo luogo perché quando è crollato il Ponte Morandi io stavo lavorando a questo progetto, stavo lavorando alle tappe, quindi quando è successo quel che è successo, quel 14 agosto, io ho pensato che è da lì che voglio partire. Però ha scelto appunto di divulgare questa malattia. Lei ha parlato poco fa in conferenza qui a Foligno, ricordiamo questa è una delle tante tappe italiane di Marco Togni, noi l'abbiamo visto e in qualche modo fotografato nella città della Quintana, non a caso perché spesso veniamo a fare le vacanze da queste parti, quindi sapevamo che ci fosse e siamo piacevolmente venuti, io e il mass streaming dall'altra parte. Lei quindi ha cominciato a camminare di città in città, come funziona? Si organizza per alberghi, fa un tot di chilometri al giorno, poi ovviamente dovrà anche riposarsi perché poi i piedi reclamano. Sì, diciamo che le tappe sono state tutte definite già prima di partire, quindi è già tutto organizzato, in realtà per qualche modifica qua là ovviamente c'è, mediamente sto sui 25 chilometri al giorno e prenoto man mano i posti dove andare a dormire, quindi ostelli, bed and breakfast, insomma quello che riesco a trovare al minore prezzo possibile. E' anche capitato comunque che venissi ospitato perché poi in un viaggio come questo si è creato poi un bel tamtama anche a livello social ed è capitato che qualcuno mi scrivesse dicendomi quando passi di qua, visto che devi passare di qua, ti ospito io. Ecco, lei raggiunge tutte quante le città che hanno l'associazione o degli esponenti, come in questo caso qui a Foligno, abbiamo una vecchia conoscenza del nostro programma che annita rondoni, oppure va anche a parlarne così con i primi cittadini che ovviamente le danno ospitalità, l'accolgono nelle loro case comunali, come si suol dire, e in qualche modo divulga al popolo che è astante, interessato e non interessato, la sensibilizzazione su questa malattia? Ma essendo un viaggio a piedi alla fine arrivo tra virgolette un po' ovunque, quindi arrivo sia in città dove è presente, dove è ben radicata la mia associazione, l'Aism ha comunque un centinaio di sezioni in tutta Italia, quindi sono tante, quindi copre un bel territorio e arrivo sia in tanti piccoli comuni o più o meno grandi, dove magari Aism è meno presente, quindi porto quella campagna di sensibilizzazione anche in quei comuni che magari sono un pochino più lontani da quello che è l'universo Aism. Quindi è un viaggio a 360 gradi che va a prendere un po' tutte le tipologie di comuni ed è bello perché in un viaggio così si riesce a sensibilizzare anche tutte quelle persone, tutti quei primi cittadini che magari fino ad allora avevano sentito parlare pochissimo di sclerosi multipla. Peraltro avrà incontrato anche persone che sono affette da questa malattia, nell'introduzione ho parlato anche di debacle di natura psicologica perché avere una diagnosi come quella della sclerosi multipla della quale malattia non si conoscono le cause ma non si conosce neppure l'antidoto per uscirne fuori, la si può rallentare ma non la sicura, a volte ci sono proprio delle persone che vanno in depressione, quindi poi c'è una concatenazione, una sorta di gioco delle scatole cinesi perverso che porta fino all'autodistruzione, lei ha incontrato queste persone, ha dato una parola di conforto? Io ho incontrato tantissime persone con sclerosi multipla, in tante mi scrivono, soprattutto giovani perché ovviamente il mio è un viaggio che viaggia molto sui social e quindi il Tantam porta ad avere con me, a prendermi dei caffè, a fare delle tappe con persone sostanzialmente giovani. Devo dire che ho sempre trovato storie abbastanza positive, ovviamente la diagnosi è un momento complicatissimo, il primo anno, i primi due anni sono molto complicati perché devi imparare a convivere con qualcosa di diverso, però è bello perché molte di queste storie sono storie positive, nel senso dopo quel periodo complicato poi sono storie di grande reazione, di grande voglia e molte persone riescono comunque a raggiungere i propri obiettivi, anzi con maggior forza, con maggior voglia rispetto a quella che avevano prima. Un obiettivo veramente superbo, quello di Marco Togni, che immagino per quanto riguarda l'aspetto logistico e curioso si sarà fatta una mappatura di quelle che sono le strade provinciali e regionali, quelle a bassa densità di traffico anche per la sua incolumità, anche se non è facile oggi come oggi, però avrà fatto un po' un percorso, devo dire, alternativo, appenninico, un po' il viaggio a cavallo del quale parlammo con Mogolla qualche mese fa, lì era un po' una via francigena a metà, la sua che via è stata, come ha scoperto certi luoghi e immagino anche degli incantevoli paesaggi, no? Assolutamente sì, è il bello di un viaggio come questo, che comunque si raggiungono dei luoghi che non avrei mai raggiunto in macchina per esempio, quindi è bello perché è un viaggio che passa sia in grandi città che in piccoli comuni, sia nella città come Roma, sia nel paesino da 200 abitanti e si attraversano quelli che sono i cammini, quelli che sono i sentieri, i tratturi, strade secondarie, provinciali, a volte anche strade principali, e lì ovviamente è più complicato, ci sono regioni dove è molto più facile camminare, ci sono regioni dove magari è un po' più complicato, però alla fine una strada si trova sempre, insomma, se da Genova sono riuscito ad arrivare fino qui, passando per Calabria, per Basilicata, per Puglia, vuol dire che l'Italia è camminabile, anche se una nazione era mai fatta più per macchine che per pedoni. Lei è stato anche nella capitale d'Italia, è stato ricevuto magari dal sindaco Raggi o meglio ancora dal pontefice? Ma sono arrivato a Roma purtroppo in un periodo complicatissimo, ero sotto Pasqua, quindi c'erano tutta una serie di impegni istituzionali, in pieno nel periodo in cui arrivava anche Greta a Roma, quindi alla fine è stato complicato Roma, quindi alla fine non sono riuscito a strappare nessun tipo di incontro a Roma. Ecco, vedete, l'opera di Marco Togni è un'opera che va messa in considerazione, perché per una giusta causa che è legata ad una malattia della quale ancora non si conosce la cura, lui sta facendo questa sorta proprio di divulgazione. Non capisco perché alcuni media preferiscano altre realtà, non magari rispetto ad altre come quella di Marco Togni, che andrebbero propalate in maniera forte. Qui addirittura la ragazzina che è contro l'inquinamento ambientale, verso il quale siamo tutti quanti combattenti per risanare quello che respiriamo, ha un risalto mediatico straordinario, mentre su Marco Togni si è speso poco, devo dire. Siamo in poche per parlare di lei, questo mi dispiace. Ma a livello locale in realtà se ne è parlato comunque abbastanza tanto, magari un po' meno a livello nazionale, però sono sicuramente contento dei risultati che stanno arrivando. Stanno arrivando tanti piccoli risultati e questi mi fanno immensamente piacere ovviamente. Anche a noi, ma anche se lei non è stato chiamato per fare l'ambasciatore dell'ONU, quindi... No, non ancora, non ancora. Comunque adesso in Umbria, Foligno, poi sarà Spello, Perugia, Assisi e Gubbio, città di Castello anche, poi dall'Umbria passerà Abruzzo, Toscana... No, vado verso l'Abruzzo, l'ho già... Ha già fatto. Hai mai concluso, quindi adesso vado verso la zona di Arezzo, poi verso Firenze e poi viro verso Bologna per poi andare verso il Friuli. Addirittura lei da Bologna passa verso il Friuli, quindi non fa il passo della Cisa, ma va verso la Carnia, verso quelle zone lì. Praticamente sì, anche gli sfrutto una serie di cammini, c'è il Cammino Senonero di Sant'Antonio e praticamente mi porta fino a arrivare quasi in Friuli e poi da lì dovrò andare fino al Val d'Aosta, per poi tornare a Genova al 30 novembre. È ancora lungo il viaggio. Lunghissimo perché peraltro si fa tutta quanta la linea longitudinale del nord Italia, dal Friuli Venezia Giulia passando per Bologna che è già spostato un po' verso est e poi arriverà dalla Val d'Aosta fino alla sua Liguria. Quindi il viaggio termina il 30 di novembre a Genova. Esatto, esatto. Il viaggio a piedi termina il 30 novembre. L'obiettivo era quello di toccare tutte e 18 le regioni peninsulari e poi una volta terminato questo viaggio il 30 novembre andrò sulle isole che ovviamente non erano raggiungibili a piedi. Ecco, quindi le isole non le ha fatte? Sicilia e Sardegna? A dicembre, a dicembre. A piedi purtroppo non erano raggiungibili. Avrei potuto raggiungere la Sicilia a nuoto ma non ce l'avrei fatta. Quindi ho deciso di lasciare per il fine viaggio. Guardi, noi siamo perfettamente d'accordo con quelli che sono i suoi ideali e non ne promettiamo nulla ma è probabile che il 30 novembre ci vediamo a Genova e magari l'aspettiamo al ritorno. Siamo sensibili ad ogni tipo di manifestazione. Siamo dei media, anche noi magari abbiamo meno voce possente rispetto ad altri però ci piace incontrare una persona che come lei ha scelto questo metodo originale se vogliamo arcaico ma proprio per questo dovrebbe destare più attenzione di propalare una realtà e assistere anche le persone mandando un messaggio diretto e girando l'Italia. Marco Togni, che le devo dire? Grazie tante. Grazie, grazie mille a voi.